La squadra mobile di Napoli ha fermato un uomo di 64 anni nell'ambito delle indagini sull'omicidio dell'ingegnere Salvatore Coppola, assassinato la sera dello scorso 12 marzo nel parcheggio di un supermarket in via Protopisani a Napoli. Gli accertamenti degli investigatori si stanno concentrando nell'ambito degli affari immobiliari, in particolare nel cimitero del quartiere di San Giovanni a Teduccio e delle Aste. E' questo lo scenario che emerge dalle indagini condotte dalla squadra mobile coordinate dal pool antica morra della procura diretta dal procuratore Nicola Gratteri. Nei confronti dell'uomo è stato emesso un decreto di fermo con l'accusa di omicidio premeditato, aggravato dal metodo mafioso. Dopo meno di un mese dunque c'è una pista concreta nelle indagini. Gli investigatori hanno preso in esame i filmati della videosorveglianza della periferia orientale della città e sono risaliti al 64enne, anche sulla base di alcuni dettagli della sua andatura nella ricostruzione degli inquirenti non ha agito da solo ma in concorso con altre persone che dovranno essere identificate. Per portare a compimento l'agguato il sicario avrebbe utilizzato un'auto che era stata rubata il giorno prima, un elemento che lascia trasparire una pianificazione accurata. Quanto al movente si indaga sulle attività professionali più recenti della vittima che aveva ripreso da tempo a lavorare a San Giovanni a Teduccio. Il provvedimento dovrà essere convalidato nelle prossime ore dal giudice al quale l'indagato potrà fornire la propria versione dei fatti.